Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento Iron Man in scala 1 a 3 edizione De Agostini Marvel 2022 numero 102 armatura danneggiata questo è il primo numero che abbiamo montato il 101 come vi ho già detto è secondo me fatto benissimo benissimo guardate il movimento della manopola con la modifica che vi ho fatto vedere andate a vederla ringrazio tutti i miei iscritti tutte le persone che mi guardano e se poi decideranno anche di iscriversi li ringrazio ancora di più stiamo arrivando a 200.000 visualizzazioni ma prima di procedere al montaggio di questo numero 102 consentitemi di fare un ringraziamento a Passione Moto Torino perché con mia sorpresa mi è arrivata una donazione per aiutarmi con il canale tramite il video qualsiasi video che io neanche sapevo che ci fosse questa possibilità perché non me ne ero accorto magari lo hanno fatto da poco cioè YouTube l'ha messo da poco c'è l'opportunità di aiutare le persone che hanno il canale con una donazione economica ecco ragazzi attenzione non mi fraintendete iscrizione gratuita nessuno deve aiutare Michele economicamente nessuno però questo ragazzo lo ha fatto io lo ringrazio mi ha spiegato che sotto il video c'è scritto oltre a mi piace c'è scritto grazie col simbolo se non sbaglio del dollaro ha cliccato sopra e ha fatto una donazione quando io l'ho ricevuta chiaramente sono sceso dalle nuvole perché non è che sono anni che io sono su YouTube e vivo di questo tutt'altro non vivo di questo e neanche sopravvivo di questo perché ci vogliono probabilmente tanti anni poi ci sono quelli veramente bravi che ci mettono anche meno a me piace farlo spero un giorno di riuscirmi a pagare almeno qualche collezione oggi siamo molto lontani e quindi volevo ringraziarti Passione Moto Torino per il tuo gesto grazie veramente con tutto il mio cuore grazie ti ringrazierò praticamente ad ogni video che farò adesso perché poi ci sarà anche Robocop ho appena fatto quello della Lancia Stratos e poi c'è anche la For Grand Torino perché per il motivo che ti ho detto prima non mi aspettavo nulla del genere per me è stata un'emozione grande al di là della cifra che tra l'altro non era neanche potevi anche darmi meno insomma però ti ringrazio grazie con tutto il mio cuore allora tornando a noi molti hanno deciso di soprassedere di non fare questa collezione questa collezione chiedo scusi i numeri ulteriori quindi queste 20 uscite opzionali perché Iron Man in realtà è finito al numero 97 ma ovviamente chi si è fermato al 97 e non ha acquistato anche gli ultimi tre numeri ha fatto secondo me male anche se ognuno con i propri soldi decide cosa fare perché perché la collezione è veramente completa di questa collezione scusate il ripetermi nelle parole si può ritenere solo così quando avete anche il bacino che è il 98 99 100 che vi consente di fare le altre posizioni ecco perché io a chi mi chiedeva mi permettevo di consigliare di arrivare almeno a 100 poi molti hanno contestato dicendo Michele però il primo numero l'abbiamo pagato 1 euro questo viene 10 euro e 99 e non ti danno neanche la testa completa ma sinceramente ma secondo voi una testa completa come questa in metallo il sistema di accensione e tutto fatta non bene ma divinamente bene può costare 1 euro è stato un lancio come tutti sappiamo per far capire appunto noi a che grado di qualità potevamo andare incontro ecco non è che ci potevamo dare la visiera chi l'avrebbe continuata pochi io sì perché mi piace iro me l'avrei fatto quindi ecco questo per dirvi che secondo me alla fine questo più questo che mi sono costati quasi 22 euro va bene va bene perché li vale a mio parere andiamo avanti intanto ringrazio tutti i miei iscritti ringrazio tutti coloro i quali decideranno di iscriversi perché ragazzi mi fa piacere che mi mettete il mi piace che mi ringraziate però ricordatevi anche di iscrivervi che per me è importante all'interno troviamo che belli questi fascicoli che belli all'interno troviamo la parte finale del casco vedete questa è tutta vernice io come vi ho detto all'inizio prima di ricevere il primo numero pensavo che fosse raschiata resa così danneggiata in questo senso invece no invece viene prima verniciata e poi diciamo come posso dirvi lavorata sopra con altri colori e renderla così ed è bella andiamo subito a posizionarla prima di mettere il tutto perché ci va prima il pezzo sotto giusto per vedere perfetto ecco poi vi farò vedere una cosa ve l'ho già spiegato se avete visto le prime uscite la maggior parte di voi almeno quelli che non mi hanno che non hanno visto il mio video avranno un gradino qua la parte dorata è più alta di quella rossa provate nel vostro Iron e sentirete non dico tutti ma la maggior parte sentirete che c'è un gradino questo gradino in questo caso non c'è perché manca ancora questo pezzo qua almeno nel primo casco della prima uscita non di questa danneggiata creava questo problema se lo creerà anche questo vi farò vedere ma ve l'ho già fatto vedere in quel video come ovviarlo ok abbiamo il visore abbiamo la linguetta della piastra con una serie di viti e M che sono da avvitare nel metallo io userò anche un lubrificante non importa che leggiate quello che è scritto qua sopra un lubrificante qualsiasi un olio uno spray se volete usarlo non siete obbligati andiamo a vedere subito e andiamo a crearci i due filetti quindi negli unici due fori presenti uno qui e uno qui bagnerò solo una volta la mia vite e M e basterà questo per poter creare i due filetti quando sentite che non gira più siete arrivati in fondo non ne continuate perché la spezzate all'interno e poi e poi non vi spiego come fare per toglierla perché se non siete con un po' di esperienza vi complico la vita quindi a quel punto vi conviene fare un riordino ecco qua pulite con una pezza l'olio in eccesso perché questa è in plastica non fate mai toccare i grassi o oli nelle parti in plastica è sempre sconsigliato ok e poi andiamo a montare prendiamo il visore eccolo lì giriamo il cacciavite al contrario finché non sentiamo il clac che vuol dire che ha preso il filetto ok fate attenzione quando arrivate perché vedete come gira morbida la vite libera questo perché se non vi create il filetto voi sentirete duro dall'inizio alla fine il problema è che quando arrivate imbattuta sulla plastica se non vi fermate in tempo la spezzate la rompete invece in questo in questo caso essendomi creato il filetto prima vedete avvito così quando lei arriva imbattuta io do appena appena un colpetto così basta non esagero ed è perfetto prendiamo adesso l'altra vite chiudiamo il sacchetto e andiamo a metterci l'ultimo pezzo così ecco qua sentito il clac sentite quando gira al contrario ecco quando fa così è perché ha preso il filetto e posso avvitare ecco qua no aspettate ecco adesso si ok perfetto andiamo adesso a provarla ecco qua vedete si sente appena 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 un rialzo che problema c'è guardate cosa bisogna fare si allenta questa vite ecco così questo basta già perfetto guardate vedete la linea che bello bene ragazzi andiamo solo a pesarla questa testa anche se ovviamente ha lo stesso peso dell'altra ma per chi mi segue per la prima volta è una curiosità in più che andiamo a soddisfare perfetto bene pesa 209 grammi cioè stiamo parlando di oltre due etti di peso che per i nostri amici americani inglesi adesso mi segna 208 il peso è questo ecco qui bene questo montaggio è terminato adesso per chi ha piacere può dare un'occhiata all'interno dei fascicoli visto che pochi saranno quelli che andranno avanti con con l'armatura danneggiata perfetto e se avete piacere anche di dare lettura io cercherò anche con immagini un po' mosse ma cercherò di inquadrare quanto più possibile le pagine per consentirvi di poter leggere con il fermo immagine questa è la seconda di copertina con i numeri utili e servizi ed ecco qua sempre ricco questo fascicolo non tutte le collezioni sono così ricche di immagini e storia ad esempio la lancia Stratos che io tanto amo però come dico durante le fasi di montaggio sono veramente diciamo molto limitate le non solo le immagini ma anche i racconti ecco di quella iconica auto tornando a Iron Man guardate cosa non c'è in questo fascicolo quindi anche se ovviamente lo dico per quelli che possono pensare che Michele parla perché guadagna no non guadagno niente e non ha certamente bisogno di Mela di Agostini facessi milioni di visualizzazioni probabilmente sì ma non è il mio caso quindi bisogna considerare anche non soltanto i 10 euro e 99 centesimi del pezzo che riceviamo ma di tutto quello che c'è dietro guardate solo cosa può costare un fascicolo del genere tradotto in tutte le lingue che viene tradotto con delle fotografie bellissime con una carta bellissima abbiamo l'armatura ma qui abbiamo anche una ciliegina sulla torta oltre la base premium per chi l'ha fatta per chi non l'ha fatta mi dispiace per lui perché non sa cosa si è perso ecco guardate io non l'ho ancora aperto il fascicolo questa è una cosa nuova anche per me di solito li apro questo non l'ho aperto perché il montaggio era molto semplice quindi non mi sono studiato nulla che già non sapessi perché ovviamente seppur è l'armatura danneggiata si monta alla stessa maniera del primo numero che abbiamo ricevuto all'inizio della collezione guardate cosa è questa questo centro pagina un poster bellissimo avete letto qui e qui ecco qua grazie ragazzi parlo a quelli che ancora hanno deciso di non stoppare il video eh tutti bravo Michele grazie Michele e poi andate avanti veloci non guardate la pubblicità guardate solo una parte di montaggio e poi ciao Michele cattivi non si fa non si fa aiutiamo Michele oi questa è una immagine è la prima immagine un po' intima che si vede dall'inizio della collezione Tony Stark e Carol Denver infatti qua appunto viene detto che sono stati ben più che amici beh lo possiamo pensare visto le immagini l'immagine che vediamo stavo cercando di mettere a fuoco qui ma non ce la faccio mica vediamo per farvi leggere anche la didascalia vediamo se ce la faccio anche se non è in italiano ve lo dico quella ecco aspettate qua tremo sembra che c'ho beh non lo diciamo per rispetto a chi ce l'ha ecco torniamo come prima ok guardate che meraviglia Thor abbiamo praticamente ormai quasi finito speriamo che se non ricordo male Aschet faccia mazinga Z questa armatura di 75 cm con tutto il centro ricerche fotoniche se guardate nella mia playlist trovate l'uscita dove vedrete tutto il modello montato guardate cosa non fa quell'armatura quanto è bella purtroppo doveva partire il testera entro novembre dell'anno scorso io mi sono iscritto per ricevere i primi tre numeri non ho ricevuto nulla nella prossima uscita di Ironman perché prima parlavo di mazinga costruisci la prima parte del guanto destro dell'armatura danneggiata bene ragazzi a questo punto andiamo a prendere il nostro bellissimo casco io ovviamente avendo terminato tre armature sto anche facendo tre come sapete tre armature danneggiate ecco qua quanto è bello sono proprio contento io mi sentirei di consigliarvi dei ragazzi anche questi eventi uscite poi fate voi sinceramente non li vendo non ho profitto per cui vi do il mio consiglio il mio parere se potete farli vi consiglio di farli perché tra tanti anni magari vi pentite di non averlo fatto perché la collezione è sì completa ma così vogliamo dirlo così è più completa bene ciao ragazzi grazie del vostro tempo un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari mi raccomando non mancate ai prossimi video adesso andrò a fare il video di Robocop numero due no numero tre quattro e cinque so che tanti sono molto più avanti che vi devo dire io ho iniziato in ritardo però se avete piacere di seguirmi lo stesso fatelo perché sapete che Michele cercherà di montare al meglio in assoluto qualsiasi cosa che riesce a presentarvi ciao ragazzi al prossimo video